vediamo come fare una ricerca per argomento nel catalogo sbn il catalogo sbn acronimo di servizio bibliotecario nazionale è il catalogo più importante in italia comprende le principali biblioteche italiane comunali universitarie nazionali eccetera non comprende la nostra biblioteca è free online quindi basta andare in google e scrivere sbn per arrivare al sito www.sbn.it di default esce la ricerca base cerchiamo ad esempio l'argomento della depressione postpartum quindi scrivo nel campo di ricerca depressione postpartum trovo tre risultati apro primo che dal titolo sembra pertinente depressione del postpartum e sviluppo del bambino questo libro è stato classificato con la classificazione decimale di ui chi è stata attribuita la cdt 618.76 malattie puerperali psicosi puerperali il libro è stato anche soggettato i bibliotecari hanno attribuito a questo libro i soggetti depressione nervosa puerperio e neonato sviluppo psichico posso rilanciare la ricerca sfruttando la classificazione rilancio per cdd cliccando sul numero 618.76 così trovo 13 risultati torno indietro e vado a rilanciare per soggetto come soggetto scelgo il primo quindi depressione nervosa puerperio basta selezionarlo così trovo 15 risultati vedrai che non tutti i libri riporteranno sia la cdd che i soggetti alcuni avranno entrambi altri solo la cdd o i soggetti altri nessuno per sapere quali biblioteche hanno un libro basta cliccare sul titolo apro il primo il vissuto emozionale del postpartum c'è tutto l'elenco alla voce dove si trova delle biblioteche che hanno questo libro puoi richiederci di fartelo arrivare attraverso il prestito interbibliotecario nel sito della biblioteca alla voce servizi agli utenti trovi tutte le informazioni sul prestito interbibliotecario attraverso il postpartum c'è tutto il postpartum c'è tutto il postpartum c'è tutto il postpartum